Il Red Bull KTM Factory Racing ha ottenuto i suoi primi premi del podio della stagione 2024 al Gran Premio di Spagna dell'MXGP. Il campione del mondo Andrea Adamo ha vinto la seconda Manche MX2 con la sua KTM 250 e si è classificato terzo, mentre Jeffrey Herlings si è classificato quarto nella classe MXGP con la KTM 450, pareggiando i punti per il terzo posto. Adamo ha dichiarato di non essere stato pronto in Argentina, ma di aver mostrato i risultati del suo duro lavoro invernale in Spagna. Nonostante un fine settimana ancora difficile, il suo feeling è migliorato e non vede l'ora del prossimo Gran Premio, anche se non è ancora al suo massimo livello. Il prossimo appuntamento con il Motocross Mondiale il 7 aprile con il GP di Sardegna, Ariola Sardo.